Il Paglione 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 Faccio un po' fatica a parlare del personaggio perché l'ho sempre vista un po' come un musicista che deve parlare della musica che suona, no? Il Paglione È la prima volta che faccio il protagonista di una serie è un altro lavoro proprio fare protagonisti, ho scoperto un po' Christian leggendolo mi ci sono subito affezionato perché poi ha delle corde che possono essere anche un po' mine essendo io nato in periferia a Roma ho visto una potenzialità nel personaggio positiva, ecco un personaggio che potevo giocare bene, tra virgolette Bella, bravo Insomma questo film d'amore Christian è un personaggio piuttosto folcloristico dire uno degli ultimi non è corretto ma è sicuramente un personaggio che sta al confine è permesso? Lui lavora come vicchiatore in questa famiglia criminale non ha particolari belleità non è una persona che ha voglia di diventare potente di comandare, di essere famoso, di essere qualcuno è una persona normale è una persona normale in quel contesto che è stata educata ed è cresciuta in un contesto criminale è un figlio di canote a me che sta a casa un giorno nella vita di Christian succede che ha dei dolori alle mani quindi da lui che usa le mani per vivere Voi che li puoi maniare eh? li serve tutti Gli vengono queste stimmate poi all'inizio non lo sa gli vengono questi dolori alle mani e quindi il fatto che questo dono tra virgolette capiti a uno degli ultimi è una cosa interessante un po' pasoliniana, non lo so questa cosa cristica che arriva ad uno che neanche è consapevole Christian infatti si troverà nell'arco della sua storia iniziare a fare miracoli e giorno dopo giorno, miracolo dopo miracolo a perdere un po' quello che era il suo essere uno qualunque e a diventare una persona molto speciale